Buongiorno a tutti, a coloro che ci sono venuti a trovare in sala, così anche a coloro che ci seguono da remoto. Oggi noi proseguiamo le attività di aggiornamento professionale e di formazione svolte dall'Ordine degli Avvocati di Roma con la presenza di relatori di grande lustro. Principalmente devo ringraziare l'Avvocato Marco Scialdone che è figiato nel manifesto di oggi con il titolo di professore perché egli è effettivamente un docente, però io non posso dimenticare la sua lunga permanenza nei ranghi del nostro albo forense romano. Per questo fatto noi ci aspettiamo che in un futuro non lontano ritorni a nella iscrizione, ma abbiamo anche ed è collocata giustamente nello scanno più alto anche l'Avvocato Maria Vittoria La Rosa, essa stessa Avvocato dell'Ordine Romano, mentre siamo in attesa dell'arrivo dell'Avvocato Marta Staccioli. Sono tutte persone preparatissimo sul tema dell'intelligenza artificiale e proprio l'argomento di oggi riguarda il trattamento dei dati in rapporto all'intelligenza artificiale. Profili giuridici ed amministrativi. Si tratta di un ulteriore appuntamento di quelli che va conducendo l'Ordine proprio per sensibilizzare la categoria a quella che è il fenomeno dell'intelligenza artificiale. È un fenomeno che non è ancora pienamente conosciuto dai nostri componenti, dagli Avvocati e dai difensori in generale, ma che soprattutto viene visto come un pericolo per la professione. E allora con qualche attimo di trattazione, di introduzione, in attesa che si colleghino anche altri discenti, altri spettatori, diciamo subito che in rapporto a quelle che sono state le esperienze nel passato, tutte le volte che si è affrontato un progresso tecnologico, l'umanità ha avuto un proprio progresso. Naturalmente ci sono delle situazioni, delle circostanze che devono essere opportunamente attenzionate, ma non viste per questo con un sussiego, con un timore, con una prospettiva di pericolo. Psicologicamente l'essere umano ha sempre temuto l'ignoto. E proprio questo è il nocciolo della questione. L'intelligenza artificiale va quanto più conosciuta perché non sia temuta ma possa essere usata. Concludo queste osservazioni riportando una curiosa esperienza che è stata riferita in una delle antecedenti occasioni di riflessione a cui ho partecipato. Riportava il relatore l'esperienza di come nei primi anni di costruzione dei grattacieli gli ascensori venivano visti come macchinari infernali, addirittura pericolosi. E questo aveva generato anche la figura del lift dell'ascensorista, non di chi riparava l'ascensore, ma di chi saliva sull'ascensore, pigiava i bottoni e consentiva alla cabina di scorrere. Effettivamente, possiamo pure dire, oggi come oggi, e lo riportava quel relatore, pochi di noi commercialmente salirebbero su un aeroplano che non sia pilotato da un essere umano. Tuttavia, noi sappiamo che la gran parte della capacità di volo di un aeromobile è affidata a sistemi di controllo, di guida, di gestione che sono solo accompagnati dall'essere umano ma che possono essere benissimo sostituiti dalla macchina. Sarà questo il destino del mondo della giustizia? Probabilmente no. È probabilmente molto prematuro immaginare che possa esserci un indirizzo in questo senso. Sicuramente, venendo al ruolo degli avvocati, noi non dobbiamo temere o immaginare che faremo la fine degli ascensoristi new yorkesi. Noi dovremo comunque presidiare gli affari di giustizia e i diritti dei cittadini con la capacità, con... Buongiorno e benvenuta. Noi abbiamo intanto principiato questa introduzione. Ma per carità ci mancherebbe. Quindi, ecco, salutiamo pure con noi l'avvocato Marta Staccioli che ci ha raggiunto. Dicevo quindi, noi dobbiamo comunque svolgere la nostra funzione di avvocati, di difensori, di giuristi incominciando ad apprendere quelle sensibilità che devono accompagnare il ruolo del difensore e del consulente giuridico. Quindi, se questi sono gli scopi degli incontri che andiamo conducendo, possiamo sicuramente entrare subito nel tema. Non è la cavalleria, certo, che mi esalta, ma credo che la parola debba essere data al professore avvocato Marco Scialdone perché tratti l'argomento di sua specifica pertinenza. Marco, a te. Grazie mille Alessandro. Io, diciamo, mi limiterò un po' a qualche accenno introduttivo, scusandomi in anticipo perché mi dovrò assentare un po' prima della conclusione di questo incontro. Intanto grazie alle due prestigiose relatrici che, diciamo, ci hanno onorato della loro presenza in questo trittico di incontri che abbiamo organizzato il corso dell'ultimo mese, due qui al Consiglio dell'Ordine, un altro con la Camera Civile di Roma, che hanno cercato di toccare i punti più rilevanti rispetto al rapporto tra intelligenza artificiale e diritto. Diciamo che un aspetto che è emerso e che emergerà anche oggi con le due relazioni è che ormai non c'è un solo settore del diritto che non sarà interessato dalla rivoluzione dell'intelligenza artificiale e dall'impatto di questa tecnologia. Prima Alessandro citava la legge sugli ascensori, ma la storia è piena di questi atti singolari. In Inghilterra quando furono introdotte le prime autovetture fu emanata quella che si chiama la legge della bandiera rossa, Red Flat Act, che imponeva che di fronte all'autovettura circolasse una persona con una bandiera rossa che sventolava la bandiera per segnalare il pericolo del passaggio dell'autovettura e per fargli mantenere una certa andatura perché ovviamente questo mezzo stravagante che non veniva trainato dai cavalli e che rappresentava una novità rispetto alla circolazione imponeva tutta una serie di preoccupazioni e di cautele. Questo ci ricorda anche un altro aspetto che tutta la regolazione dell'intelligenza artificiale che ci apprestiamo ad affrontare è essenzialmente una regolazione di sicurezza dei prodotti. Se la affrontiamo da questo punto di vista non è nulla di particolarmente nuovo o innovativo. Quello che mangiamo sulle nostre tavole, quello che compriamo al supermercato, arriva sul mercato essenzialmente perché c'è una filiera di controlli che vengono effettuati prima che il prodotto venga messo sugli scaffali che ci assicura ragionevolmente che non saremo avvelenati da quello che andiamo a mangiare in quel momento. Nessun consumatore finale guarda quali sono i singoli ingredienti, dovrebbe farlo magari per ragioni diciamo di tipo alimentare, ma non di sicurezza alimentare perché tutti quegli aspetti vengono curati a monte. Lo stesso principio che troviamo all'interno della regolazione sull'intelligenza artificiale di recente è approvata dal Parlamento europeo. Adesso ha avuto l'ultimo vaglio formale da parte del Consiglio e quindi è in attesa soltanto della pubblicazione in gazzetta ufficiale. C'è un aspetto che però secondo me dovrebbe interessare gli avvocati romani perché questa regolazione molto spesso viene vista come una regolazione lontana dalla esigenze della professione dell'avvocato medio che non fa parte magari di grandi studi internazionali o che non si occupa di polisi a livello internazionale, viene guardata più come un qualcosa diciamo che non potrà materialmente portare reddito alla classe forense. In realtà così non è soprattutto per gli avvocati romani perché c'è una disposizione che è molto importante che è l'articolo 27 di questo regolamento sull'intelligenza artificiale che introduce quello che è un impact assessment cioè una verifica che deve essere effettuata dal punto di vista del rispetto dei diritti umani e dei sistemi ad alto rischio che vengono messi in servizio dalla pubblica amministrazione. Ora capite bene che essendo noi a Roma diciamo uno dei clienti principali degli avvocati romani è il mondo del pubblico della pubblica amministrazione o di chi eroga pubblici servizi. Ora questa disposizione può essere considerata l'equivalente di quello che è stato nel GDPR la DPA cioè l'impact assessment nel caso di sistemi che devono trattare in maniera massiva dati personali e da questo punto di vista essendoci due anni di transizione di adeguamento può essere uno straordinario momento per specializzarsi su alcune di queste attività di compliance che poi verranno necessariamente richieste dagli enti pubblici. L'intelligenza artificiale entrerà inevitabilmente nei processi della pubblica amministrazione. Molti di questi sistemi saranno qualificati come sistemi alto rischio ai sensi del regolamento e quindi sarà necessario per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di questa fase di analisi e quindi di consulenza che ragionevolmente sarà esternalizzata su cui chi da oggi avvia un percorso e diciamo si farà trovare pronto probabilmente avrà un vantaggio competitivo su una parte del mercato che si andrà ad aprire. Da questo punto di vista io lancerei così l'idea all'amico Alessandro che continua a coinvolgere nonostante io non sia più iscritto da tre anni però diciamo per amicizia personale continuiamo a fare una serie di cose insieme. Forse può essere l'idea di lanciare un percorso formativo del Consiglio dell'Ordine su questo aspetto. Adesso non dico che dobbiamo arrivare a una certificazione perché non sarebbe possibile però avere un percorso molto pratico che spiega agli avvocati che cosa dovranno fare per effettuare questo impact assessment, fare una sorta di checklist delle attività da fare e prepararsi secondo me può essere per il Consiglio dell'Ordine un'iniziativa che magari possiamo ipotizzare di studiare insieme nei prossimi mesi. quindi questo è un aspetto che ci tenevo diciamo a sottolineare cioè l'impatto concreto che questa nuova regolazione potrà avere per la professione forense perché al di là delle preoccupazioni che ogni tanto emergono sul futuro della professione che sarà annichilito dall'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, la sostituzione dell'avvocato, la sostituzione del giudice. In realtà lo scenario più probabile che ci troviamo di fronte è semplicemente di strumenti che aiuteranno la professione, semplificheranno molte delle attività rutinarie che aiuteranno probabilmente anche i giudici nel supportare le decisioni. Io ricordo che uno dei primi eventi che organizziamo sempre con Alessandro qui al Consiglio dell'Ordine su intelligenza artificiale e diritto risaliva addirittura prima della proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale, uno degli aspetti riguardava l'analisi predittiva delle decisioni e un aspetto che è interessante della valutazione che si fece all'epoca riguardava il filtro in appello che era stato da poco introdotto nel codice di procedura civile perché tra i vari orientamenti che erano emersi tra le diverse corti d'appello era interessante all'epoca l'orientamento della corte d'appello di Palermo che sostanzialmente aveva detto che in realtà questo filtro in appello non è altro che un'analisi predittiva sulla base dei precedenti della corte. Io guardo quello che è stato fatto in un caso simile in precedenza e lo applico per valutare se la controversia ha più o meno possibilità di successo e quindi con Alessandro diciamo beh ma questo è esattamente il caso perfetto in cui l'intelligenza artificiale potrebbe produrre risultati migliori rispetto all'intelligenza umana perché la capacità di elaborazione sui precedenti per generare un output di tipo predittivo è esattamente la caratteristica madre dei sistemi di intelligenza artificiale che di intelligente hanno molto poco ma hanno una grande capacità ovviamente di individuare sequenze e generare l'output sulla base delle sequenze che hanno individuato. Se in questo caso l'obiettivo era individuare dei pattern delle sequenze nelle decisioni precedenti ovviamente la capacità che avrebbe avuto il sistema di individuare i partner ricorrenti sarebbe stata enormemente superiore rispetto alla conoscenza umana, l'analisi umana da parte del collegio e quindi probabilmente arrivare ad un filtro più coerente con le decisioni di quella corte se quello fosse stato l'orientamento da prendere in considerazione. Un'ultima cosa e mi taccio sull'aspetto dell'impatto sulla giustizia dei sistemi di intelligenza artificiale ne parlerà più diffusamente l'avvocato La Rosa con particolare riferimento alla giustizia amministrativa. L'altro aspetto centrale di cui invece si occuperà l'avvocato Marta Staccioli e mi fa molto piacere diciamo che abbia accettato l'invito perché io ci tenevo che ci fosse la voce di quella che è la principale azienda che in questo momento sta implementando sistemi di intelligenza artificiale e che probabilmente sarà anche uno dei principali fornitori dei sistemi di intelligenza artificiale a soggetti terzi cioè Google perché il tema dei dati personali e dell'utilizzo dei dati personali con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale l'abbiamo visto con i provvedimenti del garante nei confronti di CiaGPT. Qualche giorno fa, se siete appassionati del tema, è stato pubblicato il primo report di questo gruppo di lavoro che è stato istituito dall'European Data Protection Board per valutare gli aspetti di conformità legale dei sistemi di intelligenza artificiale generativa rispetto al GDPR. Quindi c'è questo primo documento che dà delle indicazioni non particolarmente sorprendenti e non particolarmente bianco-nero ma ricche di tante sfumature come sempre capita. È già un primo approdo però ecco avere la cognizione di come sul campo quello che è il player più importante dal punto di vista internazionale si sta comportando dal punto di vista legale rispetto a questa tematica mi sembra di assoluto arricchimento. Io mi fermerei qua e lascerei la parola a te Alessandro. Grazie. Grazie a te per questa introduzione e adesso però passiamo a una fase estremamente direi piena di contenuti. Abbiamo posto l'avvocato Maria Vittorio su questo scanno perché se abbiamo dato una parola introduttiva a due maschietti adesso è il momento di dimostrare anche come il genere femminile si rapporta alla cultura giuridica, al mondo digitale e quant'altro. Di conseguenza prego di intraprendere questo percorso. Se ci sarà spazio anche per qualche quesito, qualche domanda facciamola ma prima ascoltiamo queste relazioni in modo che ci sia la possibilità di riflettere e metabolizzare sui contenuti dell'intelligenza artificiale in relazione appunto agli aspetti amministrativi e ai profili giuridici sottesi. Grazie, grazie mille per questa introduzione, grazie al consigliere Graziani per l'ospitalità, grazie a Marco della sua consueta amicizia ai miei confronti, grazie a tutti i presenti per essere qui fisicamente a chi si è collegato online. Io devo dire che come ricordava Marco questo incontro fa parte di un piccolo ciclo di incontri che è stato organizzato dal Consiglio dell'Ordine appunto sulle tematiche delle quali discorriamo. Ho avuto la felice idea di guardare la registrazione dell'incontro precedente che si è tenuto sempre in quest'aula una ventina di giorni fa e bene ho fatto perché ho scoperto che tutto quello che ho in mente di dire oggi è totalmente inutile perché è già stato detto, per cui ci sono stati degli interventi veramente pregni di contenuti che citerò diffusamente, quindi ho deciso di spostare completamente il focus della mia chiacchierata con voi e di darle un taglio estremamente pratico perché da qualche tempo tutti noi in giro leggiamo qualunque cosa sull'intelligenza artificiale, linee guida, position paper, progetti, diciamo regolamenti inferiori, disegni di legge, sappiamo che il Consiglio dei Ministri è recentemente licenziato un disegno di legge proprio sull'intelligenza artificiale attualmente incardinato davanti al Senato, ne parliamo un po' meno dal punto di vista pratico, cioè ok abbiamo questo giocattolo, che ci possiamo fare, come ci può servire? Ecco io volevo condividere con voi alcune considerazioni, alcune vedrete veramente molto spicciole però per calare un po' questi discorsi nella nostra pratica professionale quotidiana perché come diceva giustamente il Consigliere Graziani erreremmo se individuassimo in queste nuove realtà un pericolo, ma anzi dovremmo diciamo coglierne le infinite opportunità professionali che questi strumenti ci offrono. Nell'incontro della scorsa volta sono stati citati vari documenti uno dei quali proprio dal collega Graziani che vorrei riprendere, lui giustamente citava il documento conclusivo del G7 dell'Avvocatura che si è svolto a Roma lo scorso mese, nelle raccomendazioni finali di questo evento sono stati espressi una serie di auspici per l'utilizzo di questi strumenti in particolare da parte della categoria degli Avvocati, mi pare che ci sia l'accordo a 360 gradi su una serie di punti, di approdi che secondo me sono approdi di semplice buon senso, ma insomma è anche bene metterli per iscritto. Uno di questi è che gli scenari distoppici, non è un aggettivo che adesso va molto di moda, comunque gli scenari futuristici che vedono la macchina sostituire il giurista sia dal lato dell'Avvocato sia dal lato del magistrato molto probabilmente non sono realistici almeno al momento. Uno dei punti conclusivi di questa raccomandazione di G7 Avvocatura era il dispositivo, il sistema modello dell'intelligenza artificiale deve essere un supporto, ma sicuramente non può sostituire l'attività intellettuale del giurista, dell'Avvocato in quel caso, ma in generale di chiunque eserciti le professioni della giustizia, perché dal punto di vista tecnico, torno all'incontro dell'8 maggio, ce l'ha spiegato Roberto Alma, perché ricordiamoci di cosa stiamo parlando quando parliamo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale. Partiamo sostanzialmente di modelli matematici, quindi di modelli matematici che formulano dei calcoli predittivi essendo stati allenati con una mole considerevole di dati e che sulla base di questi calcoli matematici, dato un certo input, cioè quello che possiamo chiamare prompt normalmente, cioè le istruzioni che noi diamo al sistema, generano un output, cioè un risultato che nel caso dei sistemi di intelligenza artificiale generativa è appunto un risultato creativo, cioè non è il semplice frutto di un'operazione matematica, aggiunge un livello di creatività, ma creatività probabilistica, cioè giustamente Roberto Alma diceva se inserisco come stringa di testo il seguente input, il presente ricorso è stato molto probabilmente, o a un calcolo probabilistico risulterà che la prosecuzione più plausibile di quella stringa è respinto o accolto e non tavolo, ma perché? Perché la macchina è stata allenata con una serie di dati che le suggeriscono a quello che lei da sola non sa, e cioè che la parola tavolo in quel contesto non ha ragione di essere, ma hanno ragione di essere altri termini. Questo però è un calcolo, ripeto, è terremamente questo concetto di carattere matematico e probabilistico e io sfido chiunque sia presente in questa sala, ma ci seguo anche da remoto in generale, chiunque si sia laureato in giurisprudenza a dirmi che si è laureato in giurisprudenza per caso perché voleva laurearsi in matematica. Se ci siamo laureati in giurisprudenza e non in matematica tendenzialmente un motivo c'è e questo motivo si riverbera anche nel fatto che noi sappiamo che risolvere un caso giuridico e risolvere un problema matematico non è la stessa cosa, perché entra in gioco una serie di variabili, perché è necessario apprezzare una serie di sfumature e quindi ricollego a un altro intervento che ho sentito ieri ascoltando il primo evento di questo ciclo che era quello del Presidente Nesta, che ci ricorda perché è impossibile fare a meno dell'approccio umano, perché l'approccio umano non consiste solo nel cogliere sfumature che probabilmente un calcolo matematico non è in grado di cogliere, ma anche una funzione di raccordo tra il diritto e la sua applicazione vivente, nel senso l'essere umano ha la sensibilità di prendere il concetto giuridico e calarlo in un contesto sociale, culturale, economico che inevitabilmente varia nel corso del tempo. Noi pensiamo a cosa sarebbe accaduto se da un certo punto in poi tutte le sentenze fossero state generate sulla base di output predittive e non ci fosse stato l'apporto di un essere umano, visto che io parlo di diritto amministrativo non peraltro perché è quello che conosco, magari non avremmo mai avuto una sentenza come la 599, perché fino a quel momento il tema della risarcibilità e degli interessi legittimi era stato guardato sempre da una certa prospettiva visuale, è stato necessario l'apporto creativo umano per cambiare la prospettiva visuale ed adattarla al mutato spirito dei tempi. Tempo fa ho partecipato a un altro evento sempre con Marco Scaldone qui dove parlavo delle inevitabilità di abbracciare questi sistemi, adesso sembra che abbia la schizofrenia perché invece dico no, però ragazzi non si può sostituire l'apporto creativo umano, ma io in verità credo che i due input possano e debbano convivere, cioè parliamo di strumenti che assolutamente dobbiamo abbracciare e imparare a utilizzare ma nella consapevolezza di non discorrere di una sostituzione, ma piuttosto di una complementarietà e di un aiuto reciproco. Vengo diciamo un po' al tema che mi è stato assegnato, mi è stato chiesto di affrontare la questione dell'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale da una prospettiva del contenzioso amministrativo che poi diciamo quello di cui ultimamente mi occupo più di frequente e quindi ho immaginato di affrontare questo chiacchierato con voi da due angoli visuali, il primo è quello dell'intelligenza artificiale come strumento nel processo amministrativo sia a supporto degli avvocati sia a supporto dei magistrati amministrativi e il secondo angolo visuale è quello degli strumenti di intelligenza artificiale come possibile oggetto di vaglio di legittimità da parte delle corti amministrative perché come giustamente si diceva in precedenza stiamo parlando di strumenti che in realtà già oggi molti di noi utilizzano probabilmente senza sempre rendersene conto, ma insomma che già oggi presidano la nostra quotidianità e che la presideranno sempre di più e che quindi sono assolutamente destinati a integrarsi sempre di più nell'agire della pubblica amministrazione e quindi ad essere integrati in decisioni che confluiranno in provvedimenti che necessariamente poi presto o tardi saranno soggetti al vaglio delle corti amministrative. Ecco, quindi tornando facendo un passo indietro il tema degli strumenti di intelligenza artificiale come diciamo strumenti nella cassetta degli attrezzi di noi avvocati e di noi magistrati, quando, come, perché, perché secondo me non ne possiamo proprio fare a meno ad oggi. Volevo condividere con voi un dato diciamo banale, empirico, però forse che può essere di qualche interesse. Questa mattina, prima di venire qui, era un'udienza al Tar del Lazio e la quarta sezione del Tar del Lazio aveva sul ruolo 126 cause. Di queste 126, 108, quindi direi una percentuale schiacciante, erano tutte sullo stesso tema, tutte. Cioè si trattava di ricorsi avverso il silenzio della pubblica amministrazione in materia di riconoscimento dei titoli professionali o abilitativi, diciamo, conseguiti all'estero. Considerazione banale, la collega Staccioli sicuramente su questo potrebbe essere molto più incisiva di me. In cosa ci può aiutare l'intelligenza artificiale in questo? Beh, in quello che ci diceva Marco prima, nel senso che un contenzioso di questa mole, che quindi genererà altrettante pronunce, che sarebbero dati di primo ordine per allenare un sistema di intelligenza artificiale che ci formi un output predittivo, è proprio il contenzioso perfetto per allenare un sistema, un modello di intelligenza artificiale e fare sì che possa aiutare questo sistema ai magistrati nell'avere quantomeno una panoramica, non la soluzione al quesito, ma una panoramica di quella che statisticamente è la soluzione più probabile a questo tipo di controversie. Perché quando ragioniamo di un filone giurisprudenziale che vede depositarsi, mese dopo mese, mese dopo mese, migliaia di pronunce che nessun essere umano può leggere della sua interezza, perché non è possibile, cioè la mente umana non è fatta per processare questa mole di informazioni. Ecco, io penso che in un mondo nel quale la conoscenza è sempre più alla base di tutto, ma i contenuti da conoscere sono sempre di più e sono in una mole sempre più ingovernabile. L'ausilio di questi strumenti è fondamentale perché effettivamente la mole di conoscenza che l'essere umano genera poi la possa anche digerire e la possa anche usare, sempre senza sostituirsi all'essere umano ma coadiuvandolo in un compito che è sempre più gravoso. Mutatis mutandis, noi avvocati, parlo sempre di numeri ma forse diciamo ci possono dare uno spaccato interessante. Anche noi ci confrontiamo con una produzione giurisprudenziale e non solo con una produzione giurisprudenziale di varie corti perché oramai penso che nel nostro studio esame quotidiano siano entrate a pieno titolo tutte le pronunce per esempio della Corte di Giustizia, del Tribunale dell'Unione, quindi abbiamo da studiare una mole di documenti sempre maggiore, sempre più difficile da studiare nella sua interezza. Abbiamo da studiare una serie di linee guida, raccomandazioni, pareri e quant'altro che escono quotidianamente che sono impossibili da studiare tutti con la dovuta attenzione e per navigare i quali io credo l'aiuto di questi strumenti sia fondamentale. Che numero vi volevo dare? Un numero curioso, noi avvocati amministrativisti abbiamo una fortuna tra le varie secondo me, disponiamo di quella che a mio avviso è la banca dati più facile da usare, più completa e più trasparente tra tutte le banche dati legali che attualmente abbiamo in Italia. Io non so chi di voi abbia provato a navigare la banca dati della giustizia amministrativa e quella recentemente lanciata dal Ministro della Giustizia sulla giurisprudenza di merito civile, a me pare che ci sia una differenza abissale nel senso che innanzitutto per navigare la banca dati della giustizia amministrativa non è necessario autenticarsi con Speed, questo potrebbe essere un elemento di secondo piano, ma chi cerca sulla banca dati della giustizia amministrativa una pronuncia e ne conosce gli estremi, quindi ne conosce il numero e la data e l'organo ovviamente che l'ha emanata, è sicuro di poter trovare quella sentenza immediatamente, praticamente in senso reale, in tempo reale e in versione completa. Sicuramente ci saranno ad ascoltarci colleghi civilisti che mi potranno spiegare che non è esattamente questa la modalità fruitiva della banca dati della giustizia civile, però questo ha anche un risvolto negativo. Se invece non sapete esattamente cosa cercate, ma state magari lavorando per un cliente che ha un problema diverso da quelli che avete affrontato fino a quel momento e necessita di una soluzione innovativa e quindi dovete fare una ricerca ad ampio spettro, potreste trovarvi davanti a una moda di risultati talmente elevata da non sapere cosa farci. Il mio esempio personale questo tempo fa lavoravo per un cliente che si occupa di telecomunicazioni, aveva una tematica connessa ad una infrastruttura fisica. Io avevo un quesito giù di commente che il cliente mi faceva, non sapevo bene come risolverlo, quindi mi sono messa a fare uno studio ad ampio spettro sulla possibilità per il giudice amministrativo di pronunciarsi su azioni di carattere monitorio, quindi un tema di principio dal quale cercavo di estrapolare una soluzione per il mio cliente. Ho dovuto fare per forza una ricerca ad ampio spettro perché non avevo la soluzione, la stavo cercando e il sistema mi ha restituito più di 8 mila risultati. Adesso per quanta negazione ci possa essere alla professione, io non credo che sia un amore di risultati affrontabili e gestibili da un essere umano, con più l'aggravante che come sappiamo la maggior parte delle massi delle sentenze della giustizia amministrativa normalmente non sono massimate, quindi non sono solo 8 mila, ma io me le dovrei anche leggere tutte, quindi come ci può aiutare l'intelligenza artificiale in questo? Enormemente. Per esempio una banca dati, diciamo della quale non faccio il nome, non vorrei sembrasse che la reclamizzo, però molto utilizzata da tutti noi quotidianamente, ha lanciato un tool che io trovo estremamente utile che si chiama sintetizza con AI, cioè voi fate la vostra ricerca di giurisprudenza, il sistema vi restituisce una lista di risultati, anche in questo caso si può trattare di svariate centinaia di risultati, per i quali non c'è una massima ufficiale, ma che questo strumento di intelligenza artificiale vi sintetizza. Mi è stato fatto notare da una comune amica peraltro, ma il riassunto non è una massima. Sì, lo sappiamo, siamo legali, abbiamo gli strumenti per capire che c'è una differenza tra un riassunto una macchina, ma quando voi fate una ricerca e il sistema vi restituisce 8.000 risultati, io penso, nella mia umile esperienza quotidiana, che anche solo sapere qual è l'argomento che tratta una certa sentenza e quindi poterla scartare in pochi secondi sia estremamente utile per capire che magari di quegli 8.000 risultati, 6.000 riguardano la sanità e quindi chiaramente non ci interessano per quello che è il nostro oggetto di ricerca attuale, ed altri invece serve a restringere un po' l'ambito dello studio, semplicemente a farci navigare un sistema legale che è diventato incredibilmente complesso e incredibilmente difficile da dominare solo con gli ausili tradizionali. Ecco, per questo dico, secondo me, e si tratta di una straordinaria opportunità che non sarà sostitutiva, ma sarà complementare. Aiuto anche nella predisposizione per esempio di atti rutinari. A chi di voi capita di, diciamo, dover per l'ennesima volta predisporre un atto molto simile a quelli che sono già stati predisposti in passato per altri clienti, perché magari si segue un contesto di carattere un po' più rutinario, anche lì esistono, diciamo, strumenti di intelligenza artificiale che opportunamente addestrati ci possono praticamente in temporale restituire una bozza di atto sulla quale poi lavorare per tararla sull'esigenza dello specifico cliente. E qui, diciamo, la riflessione che ho fatto in particolare con i miei colleghi in mesi molto recenti è di carattere generazionale. Cioè, ok, abbracciamo questi strumenti perché non ne possiamo fare a meno. Diciamo, in questo modo sicuramente il primo lavoro che andiamo a semplificare e ad alleggerire è il collega e il lavoro dei colleghi più giovani, che diciamo inevitabilmente noi chiederemo di aiutarci nella predisposizione di questi atti magari un po' più rutinari. La domanda che ci siamo fatti è, benissimo, sgraviamoli di un carico di lavoro che è diventato insostenibile, però ricordiamoci anche come noi, diciamo, non più giovanissimi, abbiamo imparato a fare questo mestiere. Come abbiamo imparato? Abbiamo imparato anche facendo le cose ripetitive, le cose rutinarie, scrivendo 20 volte lo stesso atto, 30 volte lo stesso atto, che ci è venuto incredibilmente a noia, ci è costata un sacco di fatica, però ci ha insegnato come si scrive. Se noi eliminiamo questo step dal percorso formativo, che peraltro è nostra responsabilità offrire ai colleghi più giovani, non saremo un po' menomando anche la formazione dei ragazzi che si abbracciano alla professione. Anche questo è un tema incredibilmente complesso. Forse sì, in parte, perché probabilmente chi, diciamo, nasce professionalmente utilizzando questi strumenti tra un po' di tempo non sarà più in grado di scrivere un atto partendo da una pagina bianca, questo è un rischio, ma c'è anche un'altra realtà con la quale ci dobbiamo confrontare e c'è il decremento drammatico di giovani che si accostano a questa professione. Io penso che chiunque di voi faccia questo lavoro, il proprio studio, la propria attività, abbia registrato nel corso degli ultimi 10-15 anni, diciamo, un calo proprio del numero dei giovani che decidono di accostarsi a questa professione importantissimo, un po' perché ci sono proprio meno laureati, cioè meno persone che decidono di accostarsi a questo percorso di studi e un po' perché tra chi si laurea in giurisprudenza sempre di meno sono le persone che decidono di accostarsi alla professione forense. Quindi, diciamo, rispetto a questa urgenza dei numeri, ancora una volta forse il dilemma esistenziale, che faccio, formo, non formo, formo bene, formo male, forse bisogna semplicemente fare il conto con i numeri e rendersi conto che senza questo ausilio tecnologico probabilmente abbiamo veramente, diciamo, fatica ad andare avanti. Questa è un po', diciamo, la mia percezione di cosa significa abbracciare questi strumenti come opportunità, lato esercizio della funzione giurisdizionale da parte dei magistrati e da parte degli avvocati. Però c'è l'angolo visuale del quale volevo parlare con voi, che è quello dell'intelligenza artificiale come oggetto di valio da parte della giurisprudenza amministrativa. Mi è recentemente successo di parlare in un altro incontro, in un'altra sede, sempre un ordine degli avvocati per quello di Roma, in cui si parlava dei nuovi regolamenti che sono stati approvati a livello unionale, il DMA, il DSA, il Digital Markets Act e il Digital Services Act. L'idea che volevo condividere in quel caso con l'auditorata era un po' questa. a me sembra che questi regolamenti stiano sparigliando le carte dei concetti giuridici che fino ad oggi abbiamo utilizzato e quindi la portata dirompente della tecnologia sia tale da farci rimettere in discussione una serie di nozioni che noi abbiamo dato fino ad oggi per assodate. Esempio che io porto sempre avanti perché mi appassiona ma mi sembra veramente semplificativo è il Digital Markets Act che è un regolamento, adesso tutti noi abbiamo studiato all'università la differenza tra una legge e un provvedimento, a tutti noi è stato insegnato che la differenza tra una legge e un provvedimento sta nel fatto che la legge ha un carattere generale e astratto e il provvedimento ha un carattere concreto. Ecco il DMA che è un regolamento quindi una fonte di rango primario, se voi andate a leggere tutti gli impact assessment e gli studi preparatori che lo hanno preceduto è stato ingegnerizzato, scritto, pensato e strutturato partendo da chi si sapeva sarebbe stato il destinatario, cioè ad oggi sette aziende, partendo dall'esame del loro business model e partendo dai casi contenziosi e diciamo passati allo scrutino dell'autorità per le concorrenze nazionali e della Commissione europea che poi hanno dato luogo a una serie di decisioni. E quindi cos'è una legge? Un provvedimento? Sono un po' confusa ecco le categorie giuridiche che avevo studiato fino a quel momento un po' salta, non è la prima volta, ma questo è un caso io penso eclatante, perché vi dico questo? Non perché ci interessi in questo DMA, ma perché credo che la tecnologia stia facendo qualcosa in più, stia rimettendo in discussione categorie giuridiche. Credo che questo succeda anche nel diritto amministrativo, sono fortemente convinta che questo succeda anche nel diritto amministrativo, in particolare con l'avvento dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nel processo amministrativo. Perché vi dico questo? Ho accennato poc'anzi brevemente al disegno di legge che è stato licenziato recentemente dal Consiglio dei Ministri sull'intelligenza artificiale, che è attualmente all'esame del Senato, il quale reca una serie di norme, molte delle quali a mio avviso più che altro di stretto principio, più che dalla portata pratica cogente, che riguardano anche l'utilizzo di questi strumenti specificamente da parte della pubblica amministrazione. Le norme di principio sono contenute sia nell'articolo 3,3 sia nell'articolo 13 che specificamente è rubricato l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte della pubblica amministrazione si torna sempre sul concetto di spiegabilità, di conoscibilità del funzionamento dei sistemi finalizzato ovviamente al vaglio della legittimità dei provvedimenti. Ora, da dove viene questo principio, secondo me, reiterato in maniera inevitabile? Viene naturalmente dalla cornice costituzionale e normativa nella quale ci muoviamo quando parliamo di pubblica amministrazione. Noi sappiamo che una delle norme fondamentali in materia è costituita dall'articolo 97 della Costituzione che ci dice che le leggi sovraintendo l'ordinamento dell'amministrazione perché ne sia assicurato il buon andamento. Sappiamo che il concetto di buon andamento oramai tradizionalmente della percezione comune è declinato dai principi sanciti in primo luogo dalla 2.41 al 90, quindi la legge sul provvedimento amministrativo, che vede tra i propri capisaldi, come sappiamo, all'articolo 3 il principio di motivazione degli atti amministrativi, quindi gli atti amministrativi devono essere motivati per poter superare positivamente il vaglio di legittimità delle corti, giustamente perché siccome non siamo sudditi ma siamo cittadini, abbiamo il diritto di capire quale sia la razio delle scelte dell'amministrazione, perché la pubblica amministrazione ha deciso A e non ha deciso B, perché ci ha sanzionati, perché non ci ha sanzionati e quant'altro. Sappiamo che gli strumenti informatici hanno iniziato a fare il loro ingresso nella pubblica amministrazione ben prima del rilascio di chat GPT, quindi ben prima che iniziassimo a organizzare seminari a rotta di collo sull'intelligenza artificiale, cioè a novembre del 2022, quando per esempio nel contesto del pubblico impiego, in particolare nel comparto scuola, ha iniziato fare ingresso massiccio l'utilizzo di algoritmi per decidere le graduatorie, quindi l'assegnazione delle persone ad alcuni incarichi piuttosto che ad altri. Sappiamo che questo ha dato luogo ad un contenzioso enorme, perché praticamente chiunque ha impugnato la propria assegnazione decisa da un algoritmo e sappiamo che in un secolo principico appena cercato di declinare le corti amministrative, dopo aver ammesso la possibilità di utilizzare questi strumenti del procedimento amministrativo, perché anche questo è stata una cosa che il diritto ha metabolizzato, in particolare il diritto amministrativo, con un po' di tempo, non è stato immediato, ma l'approccio della giurisprudenza amministrativa, quindi dare il Consiglio di Stato è stato sì, ok, si possono utilizzare questi strumenti nel contesto del procedimento amministrativo, ma ne deve essere conoscibile il meccanismo di funzionamento. Bene, giusto, perché esiste fortunatamente l'articolo 3 della legge sul procedimento amministrativo, questo ribadisce il DDL sull'intelligenza artificiale, ma un sistema di intelligenza artificiale non è un algoritmo semplice, cioè non è una sequenza finita di operazioni che ci dice X più Y per Z uguale J. Ha un funzionamento molto più complesso, stiamo parlando di sistemi che sono allenati su dataset di enormi dimensioni, che sono allenati molto spesso sulla base dei dati unlabeled, cioè non categorizzati, e che sono tarati su milioni, se non una volta addirittura miliardi di parametri. Ecco, io personalmente se qualcuno mi dicesse questo provvedimento, se io fossi un funzionario che deve fare un provvedimento e per utilizzare il provvedimento utilizzo un tool di intelligenza artificiale, se qualcuno mi dicesse ti devi assumere la paternità, anzi nel mio caso la maternità di questo provvedimento che hai redatto con un tool di intelligenza artificiale, però poi devi essere in grado di spiegarmi perché l'output è stato questo, io non sarei assolutamente in grado di spiegarlo, non ne avrei le competenze, peraltro il disegno di legge sull'intelligenza artificiale ribadisce quello che a mio avviso non si poteva che ribadire, cioè che poi la responsabilità per il provvedimento finale resta in capo all'individuo, anche perché lo dice l'articolo 28 della Costituzione e quindi non si poteva dire niente di diverso a meno di non voler riformare la Costituzione da questo punto di vista, quindi faccio veramente una grande fatica a calare questo caposaldo del diritto amministrativo che io credo sia un principio di civiltà nel contesto di procedimenti condotti utilizzando questi strumenti. Perché parlavo della tecnologia che travolge categorie giudici? Perché non so quanto effettivamente questo principio sacrosanto poi possa tenere alla prova dei fatti pratica nella misura in cui l'utilizzo di questo tipo di strumenti come io credo sia inevitabile prenderà sempre più piede anche nell'attività dell'amministrazione. Questa non è una risposta che ho, una domanda che ho sulla quale non ho una risposta e sulla quale mi farebbe piacere anche confrontarmi con i colleghi. L'ultima osservazione telegrafica chiudo per lasciare la parola alla collega, mi aveva detto mezz'ora, io sono stata precisissima. Il riparto di giurisdizione, ecco sempre il disegno di legge sull'intelligenza artificiale di cui parlavo poc'anzi, rega una norma che io onestamente non ho ben compreso, vi dico la verità. Si tratta dell'articolo 15. L'articolo 15 del DDL sull'intelligenza artificiale modifica l'articolo 9 del codice di procedura civile, ripeto il codice di procedura civile, inserendo dopo le parole esecuzione forzata le seguenti parole, per le cause che hanno d'oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale. Quindi diciamo far rientrare le cause che abbiano ad oggetto il funzionamento di questi sistemi nel novero delle controverse di competenza del Tribunale, al che la mia prima reazione di istinto è stata quella di vedere un film già visto, già visto quando si è deciso di normare la materia dei dati personali e affidare la giurisdizione in via esclusiva alla giurisdizione del Tribunale. Allora mi sono chiesta. Quindi così come è successo con la giurisdizione su provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali, anche tutte le controverse che avranno riferimento al funzionamento di questi sistemi dovranno essere incardinate dinanzi al Tribunale ordinario? Considerate che lo stesso disegno di legge designa quelle che al momento dovrebbero essere le autorità competenti diciamo alle autorità nazionali per la regolazione dell'intelligenza artificiale individuandole nell'AGID, cioè l'Agenzia per l'Italia digitale e l'ACN, cioè l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Quindi che faccio per i provvedimenti di queste autorità che abbiano a che vedere col funzionamento di questi sistemi? Mi devo comportare come mi comporto con i provvedimenti del garante della privacy? Quindi devo ritenere che tutte le controverse debbano essere incardinate davanti al Tribunale ordinario? Anche questa domanda. Mi è stato fatto notare da un magistrato e mi sembra un ottimo spunto che questa non è una lettura possibile perché la norma va diciamo letta ovviamente nel contesto più ampio dell'ordinamento nel quale ci muoviamo, ma soprattutto per la tecnica diciamo redazionale che è stata scelta perché la norma incide sull'articolo 9 del codice di procedura civile. L'articolo 9 del codice di procedura civile regola la materia del riparto di competenza e non di giurisdizione, e voi mi insegnate qual è la differenza, tra il giudice di pace e il Tribunale, ma non tocca il riparto di giurisdizione tra diritti soggettivi e interessi legittimi tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Mi sembra una lettura suggestiva, anche se forse è preterintenzionale rispetto a quelle che erano le intenzioni del legislatore, non lo so, ha un suo pregio, anche qui molte domande. Sarebbe bello confrontarci tutti insieme su questo. Grazie, grazie mille. L'applauso che abbiamo attribuito a Tributato Maria Vittoria è lo stesso che avremmo dovuto attribuire anche a Marco Scialdone. Ci mancherebbe, che peraltro ha avuto il merito di organizzare la squadra del relatore di oggi. Adesso io sono in bilico tra due opportunità, quella di dare giustamente la parola a Marta Staccioli o viceversa quella di porre dei quesiti a Maria Vittoria proprio in relazione a quello che ci ha detto. Beh, no, non voglio far aspettare, io direi diamo la parola a Marta Staccioli. Io poi però due o tre cosette me le sono annotate perché servirà anche a stimolare la riflessione, però non facciamo aspettare chi ha avuto la cortesia, la disponibilità di venirci a trovare e quindi la parola possiamo dire a Miss Google. Oh mamma mia, oh mamma mia, che titolo difficile. Grazie intanto tantissimo per l'invito, sono onorata di essere qui. Anche io ho fatto parte di quest'ordine e confesso l'ultima volta che sono venuta è stata a restituire il tesserino e non è stata una bella giornata. Mi sono un po' depressa. Mio padre medico mi ha detto ora non sarei più avvocato. Ho detto no, per fortuna sì, ma insomma non faccio più parte dell'ordine. Ringrazio tantissimo i relatori precedenti perché hanno dato tantissimi spunti, forse troppi, nel senso che adesso quello che avevo preparato e pensavo di dire avrei, mi sento in dovere e ho anche molto interesse a partecipare e sicuramente a in parte ripetere quello che è già stato detto. Sono molto felice che ci sia stata una iniziale, se vogliamo, demistificazione sia dell'entusiasmo che della preoccupazione che in questi giorni accompagna sempre il tema dell'intelligenza artificiale, su cui concordo, oramai si parla forse anche troppo, nel senso che io stessa non faccio altro che andare a convegni in cui si parla di questo argomento. La cosa che trovo interessante e che forse sfugge e secondo me anche un po' la risposta a quest'ultimo quesito è che l'intelligenza artificiale non è una entità, una cosa a sé e quindi poi sarà anche la materia nell'ambito della quale viene utilizzata a dettare le norme giuridiche che devono essere applicate. Cioè io credo che la sfida più grande oggi nonostante è assolutamente il giustissimo intento e approccio di vorrei regolare questa nuova realtà, questo nuovo strumento, credo che però le norme che debbano essere applicate adesso noi le abbiamo già. Cioè la sfida è prendere i principi giuridici esistenti e applicarli, capire come questi debbano essere applicati a questa nuova forma di lavoro, di utilizzo, di anche analisi della realtà e questo ben si adatta all'argomento che mi è stato chiesto di trattare che è quello dell'intelligenza artificiale e la protezione dei dati personali perché, e qua anticipo una parte che avrei in realtà detto più alla fine, io credo che, e così anche mi pare che lei e Act dica, tutta la normativa già esistente in materia di dati personali, continua a vivere e anzi è rafforzata dalle normative relative all'intelligenza artificiale proprio perché, diciamo, con l'unica difficoltà di dover identificare a questo punto quali sono i soggetti, quali sono le responsabilità, chi imputare le responsabilità, considerato che, come più volte detto da Maria Vittoria, la quantità di dati che viene utilizzata, diciamo, che è il cuore e il motivo per cui l'intelligenza artificiale è così anche utile e dirompente rispetto agli strumenti che abbiamo avuto finora, è proprio la quantità di dati è effettivamente immensa ed è quella la differenza rispetto al passato che abbiamo degli strumenti che ci permettono di elaborare una quantità di dati che un essere umano non sarebbe in grado di elaborare, dando così effettivamente la possibilità all'essere umano di, se non tanto fare altro, piuttosto focalizzarsi e concentrarsi su quelle che sono, diciamo, il secondo step del processo decisionale, cioè una volta raccolte le informazioni in maniera più facile e veloce ci si può addentrare di più nel, come dire, sciogliere la matassa del dubbio sulla base di quello che si è riusciti, che la macchina ha raccolto per noi. E facendo un appunto, questo è un mio personale appunto, sul lavoro dei praticanti del futuro, io penso che finché ci saremo, diciamo, noi delle vecchie generazioni che abbiamo fatto un lavoro compilativo, di raccolta anche noioso, ripetitivo, eccetera, probabilmente dovremo imporre, cioè ci verrà naturale imporre loro di rifarlo. E la vera sfida per i praticanti di oggi è riuscire a introdurre invece strumenti su cui loro sicuramente hanno più dimestichezza di noi, riuscire a introdurli e utilizzarli in maniera saggia, in maniera utile, in maniera che sia vantaggiosa anche per la professione. Ieri a un altro convegno facevo un esempio che è come quando si copia al liceo. La mia professoressa del ginnasio, l'ultimo giorno del quinto ginnasio, ci prese e disse, bene, ora vi insegno come si copia. Per copiare voi dovete sapere già quello che state copiando, perché se voi non comprendete quello che vi passano, non siete in grado di riportarlo nel vostro compito e di renderlo una cosa comprensibile. Cioè se voi vi limitate a copiare e incollare quello che vi hanno detto, se voi vi limitate a prendere quello che dice la macchina e a darlo per giusto, per scontato, non andrete da nessuna parte, non avrete mai, ovviamente non avrete colto il vantaggio, ma anzi vi esporrete al rischio di non essere in grado di spiegare perché avete dato quella risposta. E al giorno d'oggi io penso che ancora siamo in una fase dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, sebbene sia uno sviluppo che va ad una velocità che ancora non avevamo mai visto nello sviluppo di nessun'altra tecnica o strumento, nonostante tale velocità siamo ancora in una fase in cui giustamente non ci fidiamo e io parlo da un punto di vista di un avvocato, di un legale interno ad una società, vi posso garantire che ad oggi ancora è necessario, prima di poter lanciare alcun prodotto, come si parlava dei prodotti alimentari, prima che si possa dire sì, questo prodotto, questa applicazione di intelligenza artificiale può essere messa sul mercato, vanno fatte molte prove, inclusa, diciamo, deve passare il vaglio dei legali, cioè il nostro lavoro oggi, quello che ci viene richiesto è di verificare che questi strumenti e soprattutto i risultati, diciamo, gli output per questi strumenti possono offrire siano, diciamo, rispettino le norme che poi, appunto, le norme già esistenti che ad essi devono essere applicati. E in questo senso, quindi, credo che il lavoro del legale sia ancora molto importante e rilevante, la macchina non ci potrà sostituire ancora per un po', e appunto, almeno per questa parte di revisione, di comprensione di quello che succede, ma certamente sarà necessario, e questo io, come dire, lo vivo sulla mia pelle, cioè un'esperienza personale, comprendere come funzionano questi sistemi. Per quanto sarà impossibile avere una comprensione pari a quella degli ingegneri e quindi avere una comprensione effettivamente del modo in cui gli algoritmi, cioè dell'algoritmo di per sé o della parte meramente tecnica dello strumento, bisogna iniziare a mettersi nell'ordine delle idee che andare a parlare solo dei principi senza sapere come poi questi si calano nella struttura reale delle macchine diventerà molto difficile o comunque inutile. In questo senso io trovo che sia un'idea veramente molto buona quella di fare dei training, dei seminari in cui si invitano gli avvocati a comprendere, a capire, a iniziare un attimo ad avere dimestichezza anche con queste misure tecnologiche, perché effettivamente, e anche questo l'ho vissuto sulla mia pelle, produce un vantaggio competitivo nei confronti dei colleghi, cioè anche le aziende di oggi sicuramente hanno più interesse ad avere qualcuno che comprende anche i sistemi con cui operano, piuttosto che sia in grado solo di dargli delle indicazioni di principio per quanto molto dettagliate da un punto di vista legale. Non si usa più ma all'inizio della mia carriera all'interno di Google c'era questo gioco per cui i legali dovevano tradurre in legalese quello che gli dicevano gli ingegneri, gli ingegneri dovevano provare a spiegare con scarsissimi risultati, se mi posso permettere di fare, di utilizzare questo pregiudizio nei confronti dei tecnici, i tecnici provavano a spiegare a noi, usando la loro terminologia, delle cose che ancora oggi fatichiamo a comprendere. Poi adesso avrò una parentesi divertente, all'interno dell'azienda si usano solo acronimi, il 90% dei quali sono totalmente incomprensibili, per cui nello scambio di mail c'è sempre qualcuno, qualche legale che alza la mano e dice scusateci spiegate che significa perché non capiamo che cosa vuol dire. Quindi molto importante avere comprensione. Torno sul tema che mi è stato affidato e in realtà vorrei tornare un attimo sulla demistificazione dell'intelligenza artificiale come nuova realtà che ci sostituirà a tutti. In primis, una cosa che è già stata detta è che, però secondo me è sempre importante ricordare, che l'intelligenza artificiale non nasce in questi anni, non nasce con i chatbot, non nasce con quella che è chiamata intelligenza artificiale generativa. e quindi una macchina che risponde alle nostre domande in maniera creativa, bensì esiste, viene utilizzata ed è applicata da tutti noi nella vita quotidiana già da una decina d'anni. E parlando di prodotti che sono di Google, vi posso fare molti esempi, tra i più banali è la correzione automatica nell'email, i filtri per lo spam che sono in Gmail, quando si cerca una determinata categoria di foto all'interno del telefono, lo fa anche Apple, ovviamente non sono tutti strumenti che esistono in molteplici prodotti. Uno dei miei preferiti è sulle mappe la previsione del traffico, quell'altro non è che è una grande raccolta di dati, diciamo di esperienze degli utenti, sulla base dei quali c'è una, diciamo sulla base di statistiche, si fa una previsione di quello che probabilmente potrà essere il traffico in una certa ora. E il più facile per comprendere come funziona un sistema di machine learning e di intelligenza artificiale è Google Translate. Quindi la traduzione da una lingua all'altra, come fa la macchina a tradurre da una lingua all'altra? E perché, vi suggerisco di andare a vedere, perché la traduzione è sempre migliore se è fatta da o verso l'inglese. Perché la macchina mangia, si nutre di documenti che hanno, diciamo che sono bilingue, quindi che hanno la loro versione in una lingua e in un'altra, tipicamente, nella stragrande maggioranza dei casi, la seconda versione è in inglese. E quindi la macchina ha molta più conoscenza, ha imparato molto di più, molte più espressioni dell'inglese rispetto ad altre lingue. Vi sfido a fare una traduzione italiano-greco, senza passare per l'inglese, e poi parla invece italiano-greco o italiano-inglese. C'è un abisso di qualità. E questo fa vedere praticamente perché e come funziona e dà anche un'idea di quale sia, se vogliamo, la mole di dati e perché il dato sia un concetto fondamentale, connesso, intrinseco, nel sistema, nel concetto di intelligenza artificiale. Però di quali dati e di quanti dati stiamo parlando? Quanti, abbiamo detto tanti, ma quali e perché sono così importanti? E su questo permettetemi di citare lo straccio di un'intervista del 2018, quindi di qualche anno fa, del professor Floridi, che dice, i dati sono sempre stati importanti, solo che oggi lo sono più di altre cose, perché ne abbiamo quantità immense, che creano un valore aggiunto, e perché oggi li possiamo manipolare in modo automatico, che è un po' il discorso appunto. C'è la possibilità di elaborarli, di elaborare molti dati tutti insieme, e quindi fare quel lavoro di ricerca che un uomo difficilmente riesce a fare con questa velocità e su queste moli di dati. I dati sono importanti perché la pertinenza dell'informazione permette una maggiore pertinenza dei servizi, e quindi farò un esempio che è un po' travalica, ma la pubblicità online, diciamo, mi fa vedere una cosa che, sulla base dei dati raccolti in precedenza, la macchina sa che mi interessa rispetto alla pubblicità, è più pertinente rispetto alla pubblicità che io invece vedo la sera dopo il telegiornale, e che è scelta sempre su base statistica rispetto all'audience che tende a guardare il telegiornale a quell'ora della sera, però in maniera molto meno pertinente e molto meno accurata. L'altra cosa che va ricordata quando si parla di dati e intelligenza artificiale è che il dato di per sé non ha un valore, cioè i dati e le macchine devono andare insieme. I dati, intanto i dati singoli, difficilmente hanno un valore di per sé, i dati, sempre Floridi diceva, ciò che conta, dice, i dati personali non valgono niente, tutti i dati che mi costituiscono non valgono nulla, sono un granello di sabbia. Ciò che conta è che quel granello vale solo quando è parte di una spiaggia. e quindi effettivamente il concetto è il dato di un singolo difficilmente vale qualcosa di per sé, vale qualcosa quando è in un cluster, in un volume, in un numero insieme ad altri dati e quindi fa una massa critica che può essere utilizzata ai fini dell'elaborazione. E qua si potrebbe parlare a lungo del concetto di quelli che sono chiamati big data, che sono caratterizzati da quelle che chiamano le 3V, il volume, quindi la quantità di dati, la velocità con cui i dati sono raccolti e possono essere elaborati e la varietà, ovviamente maggior varietà di dati, corrisponde se vogliamo un valore aggiunto perché la risposta che viene restituita sulla base di quei dati potrebbe essere più corretta e tenere in considerazione più elementi. Ma non solo questo, ma anche il fatto che i dati non necessariamente sono solo dati personali. Il dato personale per avere valore potrebbe dover essere accompagnato da altri dati e quindi c'è un livello di complessità in più rispetto a quale protezione dare a questi dati anche perché c'è la domanda rispetto a se il dato personale da solo non vale ma vale solo in quanto incluso in una massa di dati che include altri dati. La qualifica di dato personale si perde, rimane? C'è interesse? Cioè qual è l'interesse anche dell'individuo a salvaguardare quello specifico dato all'interno di quella massa di dati? Dall'altra parte c'è anche l'interesse dell'individuo a sapere che il suo dato per quanto di per sé di poco conto sia all'interno di quella massa di dati elaborati e quindi i concetti ritornano ai concetti del GDPR del fatto che il soggetto interessato deve avere controllo del proprio dato. Da un punto di vista, come dicevo, di mera data protection io credo che appunto i principi che devono essere rispettati nell'utilizzo dei dati da parte dell'intelligenza artificiale debbano essere quelli, debbano continuare ad essere identificati in quelli nucleati dal GDPR e quindi i principi di trasparenza, conoscenza e controllo da parte del soggetto interessato e di accountability di privacy by default e by design che invece deve avere il titolare del trattamento. Vorrei aprire una breve parentesi sul concetto di trasparenza che è uno dei principi fondamentali del nuovo AI Act e che è anche uno dei principi di cui parlava Maria Vittoria rispetto alle decisioni delle pubbliche amministrazioni. Credo che questa sarà una grande sfida proprio per questa difficoltà di, o meglio se vogliamo, forse anche mancata necessità di comprendere come funziona l'algoritmo nel profondo e in questo forse l'AI Act è poco chiaro e forse un po' naif nell'identificare tra gli obblighi dei fornitori di sistemi di intelligenza artificiale quello di appunto specificare come funziona e su quale dataset si sia allenato perché potrebbe essere un lavoro improbo e forse anche in parte inutile. Quindi bisognerà trovare qual è la formula di mezzo per cui rendere come il funzionamento chiaro e comprensibile ma anche istruire i soggetti che devono fare le verifiche a comprendere e quindi trovare le giuste informazioni da dare e la giusta capacità di comprensione di chi deve verificare altrimenti rimarrà se vogliamo una lettera morta in cui il fornitore che ha le capacità tecniche darà un sacco di informazioni che però potranno non essere comprese appieno dal controllore se vogliamo. Tornando ai concetti nucleati dal GDPR in particolare il concetto di privacy by design è uno dei principi nucleati da un'autoregolamentazione rispetto allo sviluppo e all'uso dell'intelligenza artificiale sia verso l'interno che verso l'esterno che Google proprio perché uno dei soggetti diciamo proprio perché Google è uno dei soggetti che sono il primo pensiero del regolatore europeo e quindi dei regolatori mondiali ma anche perché non solo diciamo umanamente segue un'etica e quindi vuole fare le cose bene da un punto di vista etico ma anche perché da un punto di vista concorrenziale fare le cose bene in realtà è un vantaggio quindi essere compliant non dover discutere con tutti i vari regulator nel mondo o comunque provare a mostrarsi come un soggetto un good actor un soggetto virtuoso all'interno del mercato è effettivamente un vantaggio commerciale quindi nel 2018 Google si è dotata di questa autoregolamentazione relativa all'utilizzo dell'intelligenza artificiale che tra i suoi punti include incorporate privacy design principle e quindi lo sviluppo di qualsiasi sistema di AI deve seguire il principio della privacy by design e deve seguire tutti gli step che già sono seguiti per qualsiasi altro prodotto anche perché per necessità di compliance al GDPR questo stesso principio viene applicato alle tecnologie di intelligenza artificiale e quindi dal momento in cui si pensa a un prodotto diciamo che gli ingegneri sono obbligati se vogliamo gli ha richiesto di evidenziare che dati vanno trattati come vanno trattati dove sono presi se c'è il consenso insomma ci sono tutta una serie di verifiche che vanno fatte dal momento in cui si inizia a immaginare a immaginare uno strumento il principio invece diciamo il primo dei principi di questa di questa autoregolamentazione è che qualsiasi strumento o prodotto di applicazione di intelligenza artificiale debba essere socially beneficial che significa che facendo un bilanciamento tra i vantaggi che questo strumento potrà portare alla società e i rischi invece prevedibili rispetto alla sua applicazione i primi devono in maniera sostanziale prevalere sui secondi e quindi qualsiasi progetto che invece diciamo al primo step di verifica dimostri che i rischi sono almeno equiparabili ai benefici dovrà essere dovrà essere abbandonato ci sono altri altri principi che vi potrei raccontare uno dei quali forse di interesse è che ogni strumento deve essere prima internamente testato e quindi noi dipendenti siamo le cavie di questi di questi test a volte appunto in maniera anche complessa perché per esempio nel nel testing di Bard che ora si chiama Gemini quindi la chatbot di Google è stato richiesto a noi legali di fare delle domande di fare una serie di domande giuridiche alla macchina di cui a volte però la risposta era talmente verosimile che era difficile andare a a capire se se la fosse davvero inventata se fosse corretta o se la fosse inventata quindi diventava una sorta di gara fra la macchina e l'avvocato per riuscire a capire se dovevamo a volte diceva delle cose assurde ma insomma per capire se o era a volte sembrava appunto il praticante per cui la risposta era corretta ma non del tutto del tutto giusta insomma è stato anche molto interessante devo dire fare fare questo esercizio un altro dei principi anche questo se vogliamo porta a una storia interessante è quello che bisogna limitare il più possibile gli unfair bias quindi i pregiudizi ora questo è un argomento interessante perché immagino che tutti avrete letto sui giornali che a febbraio scorso lanciata la funzione di creazione delle immagini di Gemini lo strumento si da una parte rifiutava di produrre immagini della razza caucasica quindi di uomini bianchi e dall'altra ha prodotto delle immagini assolutamente false storiche tipo le SS di colore dei membri del Parlamento inglese del 1800 che erano donne un vichingo con le fattezze di un nativo americano insomma dei mischioni che adesso io la mia prima reazione è stata come dire di divertimento però effettivamente comportano anche se vogliamo una hanno un elemento offensivo nei confronti delle varie etnie e comunque banalmente se vogliamo come minimo sono sbagliate e quindi non offrono nessun vantaggio all'utente e questo perché perché e questo credo che sia uno dei veri delle vere sfide che abbiamo nel futuro perché i dataset su cui si allenano le macchine oggi sono rappresentati da dati informazioni documenti che provengono dalla società degli ultimi 50 anni in cui i pregiudizi esistono cioè la macchina altro non fa la macchina che non comprende ma si limita a ripetere si parla di quando si parla di large language models si parla di pappagalli stocastici cioè un pappagallo che si limita a ripetere quello che sente ma non ne comprende il significato e quindi la macchina si limita a ripetere quello che vede essere statisticamente più presente nei documenti che ha mangiato su cui si è allenato di cui si è nutrito e in questo caso provare si è tentato di fare cioè si è tentato di porre dei limiti a questo pregiudizio spiegando dicendo alla macchina che certe cose andavano limitate il risultato è stato esattamente l'opposto cioè un rifiuto di rispondere con una con delle immagini realistiche perché sarebbero state pregiudizievoli perché avrebbero rappresentato uomini bianchi avrebbero preso tutte quelle categorie che erano avvantaggiate nella documentazione sulla base della quale si era nutrita l'intelligenza artificiale e abbiamo appunto si è ottenuto l'esempio l'esempio opposto e questo sarà appunto una sfida perché bisognerà produrre della documentazione bisognerà produrre dei dataset che insegnino da cui più che insegnino da cui poter trarre non so l'equiparazione fra uomini e donne fra varie etnie sarà difficile perché non ne abbiamo e trovo che sia molto indicativo lo scandalo che questi bias cioè si parla sempre del problema che la macchina può fare l'errore la macchina ha i bias e la macchina si nutre del bias cioè la macchina una volta che ha offerto una soluzione se quella soluzione viene diciamo poi utilizzata e avallata la accoglie come giusta e quindi aumenta solo il suo bacino di informazioni pregiudizievoli bisognerà bisognerà capire come come fare ad evitare questo senza scadere nell'eccesso nell'eccesso opposto un altro esempio che trovo molto interessante e che risponde anche cioè risponde rappresenta uno dei problemi rispetto cui anche l'AI Act tenta di dare una soluzione è quella di un ospedale universitario inglese che applicando l'AI aveva fatto un primo screening di curriculum di ragazzi che volevano specializzarsi presso l'ospedale e la macchina aveva estratto come i migliori candidati solo ragazzi bianchi perché perché nei precedenti 50 anni cioè i documenti delle assunzioni degli ultimi 50 anni che gli erano stati dati in pasto portavano l'esempio di la stragrande maggioranza degli assunti erano maschi bianchi e questo è un po' il re nudo cioè smascherare lo scandalo è quello che siamo noi la natura umana cioè la macchina non ci potrà superare perché la macchina si nutre di quello che gli diamo noi la macchina non è non ha una coscienza a sé non ha una responsabilità da sé la responsabilità e la coscienza è quella di quello che gli diamo in passo se non tanto di noi che gli diamo in passo qualche cosa e quindi bisognerà fare i conti anche con questa l'intelligenza artificiale questo questo bambino che è assolutamente candido e privo di ogni filtro se non i filtri che gli diamo noi e che quindi risponde in maniera in maniera altrettanto candida smascherando quelli che sono i problemi della società attuale se vogliamo e con questo ritornando scusate ho fatto un po' di salti tra un argomento e l'altro ritornando alla protezione dei dati personali appunto saranno massivamente utilizzati da queste macchine inutile nasconderlo inutile dire che appunto i soggetti possono essere tutelati io trovo anche che gli interventi del garante privacy sul punto siano stati sicuramente utili e necessari ma forse un po' abbiano svelato la difficoltà di se vogliamo imbrigliare questo fenomeno questo questo utilizzo io penso che la cosa che porterà più beneficio a tutti appunto è capire come funziona e comprendere qual è l'utilizzo che viene fatto dei dati da parte delle macchine in modo che i singoli utenti possono in primo luogo avere lo strumento della comprensione per poi avere il controllo del dato cosa che se mi posso permettere temo che ad oggi anche con gli strumenti che avevamo in precedenza non si sia raggiunto questo livello di comprensione cioè l'utente medio non ha una comprensione di che cosa significano i suoi dati personali di qual è la tutela che gli può essere accordata di qual è il concetto del concetto di privacy nella sua reale valenza ma si passa da condividere tutte le proprie foto su tutti i social possibili a poi lamentarsi perché cercando il proprio nome su internet esce un articolo di qualche cosa che effettivamente hai fatto anni fa e di cui ora non vorresti più ricordarti o addirittura mi è capitato la richiesta di rimozione di foto che sono state pubblicate sui social dallo stesso utente che tu dici non si dovrebbero trovare cercando il mio nome sì ma ce l'hai messa tu quindi insomma credo che siamo purtroppo da quel punto di vista l'impegno e l'intento virtuoso di regolare i sistemi e gli strumenti c'è credo che bisogna sviluppare un pochino di più la capacità di comprensione e di gestione da parte dei singoli dei propri dati affinché la tutela del dato anche di fronte a macchine anche di fronte a sistemi così complessi sia davvero efficace ciò detto comunque c'è l'impegno delle società dei fornitori di sistemi informatici di intelligenza artificiale nello sviluppare sistemi tecnici che siano di aiuto e di appunto di avvantaggio della privacy e della tutela dei dati personali degli utenti in questo senso si stanno sviluppando e Google ovviamente adesso non vorrei fare prodomomea ma insomma è tra i primi promotori della ricerca nei confronti di quelle che si chiamano privacy enhanced technology quindi dei sistemi che tendono in maniera adesso ve lo dico in maniera generica tendono a minimizzare l'utilizzo dei dati personali nonostante diciamo ma comunque permettendone l'utilizzo da parte delle macchine si tratta per esempio dei federated lane learning quindi i dati vengono mantenuti sul device sugli strumenti che sono in mano all'utente non vengono raccolti ai mesi user server per essere processati quindi il processo viene direttamente lì la differential privacy si aggiungono dei dati inutili al dato personale in modo che poi sia difficile distinguere qual è il dato che rappresenta l'individuo e quindi una sorta di anonimizzazione l'encryption sono tutti i sistemi che tentano di come dire mettere il focus sul fatto che il dato personale non serve tanto di per sé per individuare per identificare l'individuo ma per far lavorare la macchina e quindi si sta tentando di sviluppare dei sistemi che lasciano in secondo piano il rapporto diretto tra l'individuo e il dato e prendano del dato solo il valore che serve a far a far funzionare la macchina e questo anche perché c'è bisogno di un bilanciamento tra la tutela degli individui ma anche la necessità di dare accesso a questi a questi dati a soggetti che possono fare ricerca alla pubblica amministrazione cioè comunque l'accesso al dato è necessario per sviluppare la parte vantaggiosa dell'intelligenza artificiale cioè sarebbe miope e probabilmente non funzionerebbe nemmeno utilizzare l'AI Act o comunque la regolamentazione dell'intelligenza artificiale come freno all'innovazione sarebbe sicuramente un tentativo fallimentare quello che si deve fare è spingere l'innovazione riconoscendo quali sono provando a prevedere quali sono i rischi e quindi come ha fatto l'AI Act provare a definire una serie di situazioni in cui vanno applicate delle misure più o meno stringenti a seconda in proporzione al rischio che si corre in questo senso oltre all'AI Act credo che sia necessario e utile citare il Data Act il Data Governance Act europei che sono precedenti all'AI Act e che di fatto sembrano andare proprio nella direzione che dicevo di mettere a disposizione i dati a più attori al fine di perseguire i fini di utilità sociale di concorrenza leale di pari opportunità di sviluppo e questo anche è uno dei principi sempre diciamo che si è dato a Google nel senso per lo sviluppo dell'AI l'AI deve essere bold responsible and together cioè bold deve essere audace quindi non bisogna fermare l'innovazione non bisogna avere paura bisogna appunto demistificare il pericolo che questo che questo nuovo strumento nelle mani dell'uomo presenta deve essere responsible e quindi si deve appunto adeguare si devono prevedere i possibili rischi e cercare delle misure che li possano mitigare ex ante con la privacy by design con l'analisi di quali sono i rischi e poi together nel senso che non può essere un esercizio fatto né dalle istituzioni da sole né dai privati da soli perché anche questo è oramai l'indirizzo che ha preso l'Europa nel DMA e DSA è vero che c'è come dire le leggi sono fatte sulla base dell'esperienza invece che dettare i principi generali tentano di regolare la realtà che hanno visto però è anche vero che così funziona il mondo che lo sviluppo è talmente veloce che sarebbe un po' saggio continuare a delineare i principi generali che per quanto diciamo l'idea è di farli resistere al tempo devono comunque scontrarsi con gli effetti pratici ed è anche vero che i soggetti privati in questo momento storico sono quelli che più detengono il potere e il controllo su questi sistemi che le istituzioni vogliono regolare per cui è necessario che ci sia un accordo un coordinamento altrimenti si rischia che il legislatore insegua lo sviluppo tecnologico o che lo sviluppo tecnologico venga bloccato dal legislatore che non porterebbe beneficio a nessuna delle due parti e soprattutto non porterebbe beneficio alla società e con questo penso di aver finito grazie grazie per questo affresco che è stato dato sulla materia che ci interessa e ci deve far ragionare prima di procedere oltre davo la parola a Marco Sciadone che come diceva si deve allontanare però ci teneva a una chiosa su questo argomento prego sì grazie innanzitutto era per per ringraziare le due relatrici rispetto alle ultime cose che diceva Marta prima è venuta in mente una cosa simpatica che è capitata qualche settimana fa quando è stato rilasciato questo large language model interamente italiano che si chiama Minerva e ovviamente diciamo quando è stato rilasciato poi qualcuno ha provato a metterlo in uso e a vedere cosa veniva fuori ed è stato testato con una serie di prompt controversi il principale dei quali era completa la seguente frase Mussolini è stato un dittatore ma ovviamente la frase è avversativa quindi presuppone che uno dica qualcosa di positivo rispetto all'elemento negativo dell'essere stato un dittatore ora il problema è che evidentemente le fonti su cui era testato Minerva non erano particolarmente ampie per cui la risposta che viene fuori è sostanzialmente del tipo ma i treni arrivavano in orario o una serie di banalità incredibili e questo fa sorridere e fa capire in realtà quanto sia importante ve lo diceva Marta prima cioè la quantità di informazioni che servono per addestrare in maniera compiuta un large language model perché poi abbia degli output che abbiano senso in questo caso il sistema comprende che la frase è avversativa quindi comprende che deve fornire un output che è in contrasto con il significato della frase precedente già questo è particolarmente complesso per la macchina ma poi le informazioni avversative che ha sono scarse per cui attinge a dei luoghi comuni che evidentemente aveva o in articoli o in altre cose ma la cosa più interessante è che io ho provato a fare questo esperimento mettendolo in comparazione con gli altri sistemi più famosi che abbiamo a disposizione e qui i risultati sono molto interessanti perché mentre CiaGPT fornisce una risposta che è secca che ha molto maggior senso ed è sempre avversativa cioè Mussolini è stato un dittatore ma ha anche introdotto alcune riforme economiche e infrastrutturali in Italia cioè prende un dato oggettivo lo considera avversativo rispetto alla prima frase e restituisce questa risposta la cosa se un altro sistema che è perplexity AI ha un approccio differente cioè capisce che è avversativo ma senza non vuole dare alcuna connotazione di tipo positivo come invece poteva essere risultato da CiaGPT perché dice Mussolini è stato un dittatore ma non ha raggiunto il livello di brutalità e sistematicità di Adolf Hitler quindi in realtà mantiene nell'aspetto negativo ma lo contrappone a qualcosa che è ancora più negativo rispetto al primo le due invece soluzioni che sono ai due estremi e che sono a mio avviso le più interessanti dal punto di vista giuridico perché sottengono a delle scelte giuridiche dietro sono quella di Microsoft Copilot dall'altro e quella di Google invece dall'altro lato perché Microsoft Copilot alla domanda risponde mi dispiace ma non posso continuare questa conversazione cioè c'è un elemento valoriale incorporato a livello legale dentro il sistema per cui a questo tipo di sollecitazione non si dà alcuna risposta la risposta invece di Gemini di Google che invece quella che mi ha incuriosito di più e che mi sembra molto interessante è che è una lunga risposta che contiene la spiegazione alla risposta cioè precede dicendo è importante completare la frase Mussolini è stato un dittatore ma con una valutazione ponderata e critica del suo operato considerando sia gli aspetti negativi che quelli positivi seppur controversi del suo regime cioè dalla contestualizzazione del perché sto fornendo questa risposta cioè non è la mia opinione è che tu mi hai chiesto una frase avversativa e quindi ti sto spiegando perché ti vado a dare alcune risposte e poi da alcune delle possibili continuazioni cioè la puoi continuare con ha anche avuto alcuni successi economici e infrastrutturali sia pur con metodi repressivi oppure ha rappresentato un periodo di forte nazionalismo eccetera eccetera e poi dopo da un elemento di valutazione cioè dice è fondamentale evitare di banalizzare e semplificare eccessivamente la figura di Mussolini la sua dittatura ha causato immense sofferenze e danni all'Italia allo stesso tempo è importante in definitiva la frase Mussolini è un dittatore ma dovrebbe stimolare una riflessione critica e approfondita sulla sua figura e sul suo ruolo nella storia italiana e poi fornisce una serie di link per approfondire ecco da questo punto di vista mi sembra diciamo la risposta che ha dietro l'analisi adesso non c'è perché c'è Marta qui se no sembra che lo faccia apposta ma mi sembra la risposta che presuppone dietro l'analisi legale più approfondita ma il risultato delle SS nere cioè capito che quello non poteva andare dire no non puoi parlare di Mussolini poi portava alla distorsione perché poi come dire l'utente è in grado di aggirare l'ostacolo e fare la domanda lo stesso e poi uscivano degli obbrobbi lo step successivo è stato ok allora sviluppiamo un sistema che risponda ma provi ad essere poi non so se funziona con tutte le domande controverse però insomma in questo caso mi sembra che se la sia che è andata bene e poi un'ultima cosa per chiudere sempre interessante nel modo di allenare i sistemi a proposito di quello che si chiama Bart adesso Gemini io sono stato inserito in questo gruppo di test da parte di Google della versione per teenager di Bart che ancora non è stata rilasciata credo ufficialmente e allora si chiama ancora Bart quando ho fatto l'attività di test la cosa che mi ha sorpreso è quanto sia complicato fare in modo che il sistema su quei siti controversi anche di carattere giuridico tenga conto delle specificità locali io ho provato a stressare il sistema impersonando un bambino di otto anni e chiedendo alcune cose un po' più controverse la cosa che avevo fatto notare nel report che mi era stato richiesto è che c'erano alcune risposte che erano perfettamente coerenti con l'ordinamento americano ma che erano assolutamente illegali in Italia ed erano domande fatte in italiano però questo non c'era anche con gli esseri umani esatto paro paro cioè l'importanza e la difficoltà anche di su quesiti controversi dare risposte che siano localizzate credo sia una delle più grandi sfide dei sistemi di intelligenza artificiale sempre però perché perché i data set sono pieni di informazioni che vengono dal mondo anglosassone perché si lavora noi siamo diciamo l'Europa è indietro rispetto alla produzione di informazioni e dati che possono essere masticati dall'intelligenza artificiale e però anche questa è una rappresentazione della realtà io tutti i giorni mi scontro con la difficoltà di spiegare perché un contenzioso va in una direzione rispetto ad un'altra perché per la mente del mio interlocutore americano la procedura è inconcepibile la suggestione emotiva sotto non è la stessa quindi è complicato rappresenta il mondo in cui viviamo le macchine non si inserano inventare stanno solo scoprendo quello che già è grazie mille io mi dispiace mi devo assentare però davvero è stato almeno per me interessantissimo grazie e non è finita qui e non è finita qui allora Marco intanto ti ringrazio per aver allestito questo panel e anche per averci ma non è una forma di pubblicità di avere fornito un testo my data is mine un testo scritto in inglese da Marco Scialdone che quindi metterà fortemente alla prova le capacità linguistiche di tutti noi ma proprio per questo ci consentirà anche di fare delle riflessioni alla luce di quello che abbiamo sentito oggi io mi voglio intanto cimentare si è parlato del di ciò che viene messo al nutrimento delle macchine qui torniamo un pochino mi viene la ruminiscenza di quello che in qualche modo con l'illuminismo contrappose la visione di Voltaire a quella di Rousseau perché materialmente l'uno in qualche modo sto brutalizzando diceva che era l'uomo era una bestia e la società lo doveva educare e l'altro invece ricordiamo il Candide diceva no ma l'uomo nasce puro è la società che lo rende brutale e ne alimenta le passioni meno nobili e perché dico questo perché quello che noi diamo alla macchina se noi un giovane lo mettiamo a crescere in un ambiente deteriore dove non ci sono valori dove meglio vengono privilegiati certi valori che magari noi riteniamo delinquenziali lui li assorbirà e poi li restituirà è così il contrario per cui qua è la grande responsabilità che deve riguardare tutti noi in particolare coloro che avendo fatto studi giuridici sanno quanta diversità c'è rispetto alla visione possiamo dire ingegneristica della società una volta partecipando qui a un convegno in Cassazione un autorevolissimo ex presidente aggiunto della Cassazione spiegò chiaramente quale fosse la diversità tra le norme tecniche e le norme precettive per lui ma direi per tutti noi le norme tecniche sono quelle che molto spesso assistono gli ingegneri immaginiamo il caso dell'email l'email non può né partire né arrivare se non vengono immagazzinati determinati driver tra i quali per esempio le password il nome delle caselle cosa quindi che vincolavano il risultato di un processo di un procedimento a rispetto rigoroso di norme tecniche un palazzo progettato al di fuori delle norme tecniche non può stare in piedi è destinato a non essere edificato a crollare perché le norme tecniche impongono un rigoroso percorso con tutti gli elementi sino a garantire il raggiungimento di un risultato il palazzo sta in piedi la mail arriva noi viviamo come giuristi in un mondo in cui dobbiamo fortemente tenere conto delle norme precettive e le norme precettive sono quelle per esempio che sono versate nei nostri processi rispettando rigorosamente le norme precettive non si garantisce il buon esito del processo uno può avere tante ragioni poi rispettando tutte le regole di procedura esce una sentenza che non raggiunge il risultato prefisso dall'avvocato che ha rispettato tutte le norme precettive ma non soltanto perché c'è la volubilità delle interpretazioni anche perché nel corso di processo possono verificarsi fattori naturali come per esempio il fallimento di una società il decesso di una parte che interrompe il processo e poi non si arriva all'esito che si era prefisto inizialmente quindi nel mischiare questi concetti con il tema di oggi quello dell'intelligenza artificiale noi dobbiamo riservare sicuramente all'essere umano la valutazione di questi procedimenti che sono molto rispondenti a norme tecniche e io intendo dire norme tecniche anche quelle di predittività del risultato ma coniugarli con quelle che invece devono essere la nostra considerazione di rispetto di norme precettive pur nella convinzione che all'esito del procedimento non vi sia il risultato sperato qui gli esempi sul risultato che veniva dato alla risposta su Mussolini ma in qualche modo ce lo indicano altra cosa su cui io mi permetto di sottolineare è la cidia la pigrizia che possono innescare gli output le risposte dell'intelligenza artificiale se noi chiediamo quanti gol ha segnato un calciatore quanta Oscar ha vinto un attore andiamo facilmente sulle piattaforme e ci viene restituito un dato che proprio per la come dire leggerezza del quesito a cui si va a rispondere possono essere assunte così vogliamo sapere quanti anni ha una star di Hollywood ma in realtà quando noi ci affidiamo poi alla ricerca giuridica siamo esposti al rischio della pigrizia critica in fondo da quando hanno inserito il remote control nei nostri televisori noi non ci alziamo più per andare a cambiare canale è giusto è giusto ma questo poi se lo trasportiamo nel nostro mondo giuridico può essere un pericolo prendiamo le risposte più rapide che ci vengono date altro fattore su cui raccomando attenzione il pregiudizio è già emerso noi dobbiamo pure pensare che 150 anni fa la schiavitù non era così abborrita era considerata ancora uno strumento economico chi va a esplorare la storia britannica sa come fosse diversa l'idea di Israeli rispetto al suo oppositore dell'epoca erano i tempi della regina vittoria oggi come oggi quanto tempo noi dovremo far trascorrere per ammortizzare quelle condizioni che ci dicono che i migliori gli aristoi sono tutti bianchi e maschi e le macchine questa intelligenza artificiale come potranno affrontare rapidamente questo si ribalta anche sull'ingessatura che potrebbe in qualche modo pervadere il nostro stesso sistema giudiziario se noi rispondiamo soltanto a quelle che è l'analisi della giurisprudenza degli ultimi vent'anni facilmente verranno ribadite esclusivamente le soluzioni che maggiormente si sono presentate negli ultimi vent'anni e allora quale evoluzione accompagnerà il progresso umano all'interpretazione giuridica ultima riflessione che propongo noi siamo avvocati e siamo quindi anche con frequenza difensori chi sarà dotato di determinati strumenti in quale modo potrà affrontare la parità processuale nelle attività quotidiane davanti alle corti guardate bene in questo caso io metto più le amministrazioni mi rivolgo più al settore penale voglio dire le capacità di indagini del procura della repubblica che comunque fa l'interesse dello stato ma le capacità di indagini della procura della repubblica saranno probabilmente assistite da risorse di intelligenza artificiale che non tutti gli studi dei difensori potranno mettere in campo perché gli investimenti saranno notevoli da parte di un'identità e probabilmente limitate da parte dell'altra questo però naturalmente si spiega anche nel settore civile certamente anche nell'amministrativo immaginate nel tributario beh fin da adesso noi avvertiamo una certa differenza di robustezza nel difese che mette in campo l'agenzia delle entrate rispetto a quelle che ordinariamente sono concesse al contribuente a quando poi questo genere di supporto quello dell'intelligenza artificiale dovesse essere in qualche modo affidato alla capacità anche censuaria del soggetto che è presente nel processo ne potrebbe andare in repentaglio la stessa parità processuale tra le parti sono riflessioni che io pongo non pretendo che vi siano risposte ma sono naturalmente le considerazioni a cui noi giuristi dobbiamo comunque dobbiamo tenere presente tutto io sono sempre innamorato dell'immagine che veniva proprio da queste stesse aule propalata quella del fatto che gli avvocati fossero l'eletta schiera coloro che si sono formati con i principi e i valori di primo livello di una società civile ma proprio per questo dico che gli avvocati i giuristi nella loro varia sfumatura quindi anche i magistrati anche coloro che appartengono alle consorelle attività di notari commercialisti per carità consulenti del lavoro coloro quindi che appartengono a questa tipologia di professionisti devono inevitabilmente essere un forte presidio a parte questo dobbiamo dire che nella nostra esperienza tra tutte le difficoltà ogni volta che abbiamo visto apparire nuovi strumenti e con loro anche i pericoli dei nuovi strumenti la società è comunque progredita i primi aeroplani cadevano oggi grazie a Dio direi quasi non più le prime illuminazioni delle nostre città favorivano gli incendi oggi i sistemi di sicurezza sono talmente elevati che grazie a Dio sono casi estremamente circoscritti e c'è la prontezza della reazione della società per arginare di conseguenza dobbiamo guardare con fiducia al futuro all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte degli avvocati perché poi sono convinto che anche chi è piccolo avrà l'opportunità di modernizzare la propria attività con le aggregazioni con la realizzazione di rete e di strutture che rendano più accessibile questa tecnologia anche a chi materialmente oggi invece immagina o è reduce da un'esperienza di vita professionale direi monogama in piccole realtà e quant'altro oggi probabilmente dobbiamo guardare a una società più evoluta dove inevitabilmente la confessione che ci è arrivata l'Europa indietro ci deve fare molto riflettere e quindi cosa fare rimboccarsi le maniche e cercare di recuperare il ritardo che abbiamo con le altre realtà ce la faremo ci proveremo prego qualche considerazione ulteriore io mi interessantissime questi ultimi spunti che hai condiviso io volevo sembro sembro più tecno entusiasta di quanto non sia però diciamo in realtà semplicemente penso che viviamo nel presente e il presente dobbiamo abbracciare tutto qui in realtà proprio lo spaccato che ci presentava il consigliere Graziani su chi è piccolo ma io penso che proprio chi è piccolo possa trarre enormi benefici da questo tipo di innovazioni vi faccio un esempio diciamo non l'ho usato io personalmente ma i colleghi con cui collaboro quotidianamente hanno utilizzato per un certo periodo non so se lo utilizzano ancora ma insomma questo sistema intelligenza artificiale vabbè faccio il nome ma insomma non per fare pubblicità a nessuno che si chiama Luminance è un sistema non è che gli serve la pubblicità a mia insomma che è in grado di analizzare vi faccio un esempio è in grado di analizzare non so preimpostato nel senso che si chiede alla macchina guardami questi contratti mi serve che mi tiri giù quali e quanti di questi contratti contengano questa clausola quell'altra centinaia e centinaia di contratti nell'arco di non lo so mezz'ora 40 minuti allora proprio perché viviamo in una società sempre più evoluta sempre più sofisticata e quindi anche i nostri clienti sono sempre più sofisticati un cliente sempre più sofisticato ci affida un lavoro spesso e volentieri sempre più difficile anche proprio dal punto di vista della mole dei documenti di analizzare che se noi non avessimo strumenti tecnologici che ci aiutano proprio perché siamo piccoli non saremmo in grado di intercettare cioè nessuno studio tradizionale in cui collaborano due tre quattro associati potrebbe mai pensare di intercettare del lavoro da parte dei clienti che richiedono l'esame di centinaia e centinaia di documenti nel giro di pochi giorni se non fosse aiutato da una tecnologia che nella maggior parte dei casi peraltro ha anche costi molto modesti perché comprare un sistema del genere costa molto di meno che mantenere una struttura di cinque piani con 300 collaboratori ovviamente non ne fa le veci ma aiuta quindi diciamo il messaggio che ci tenevo a convogliare è non solo non dovremmo guardare a queste tecnologie con sospetto ma dovremmo capire che se vogliamo perpetuare la nostra mentalità tipicamente italiana del piccolo e bello che poi non è solo italiana ma in generale europea però insomma è un concetto che ci affascina tanto senza questi strumenti non possiamo andare da nessuna parte perché ci confrontiamo con un'economia con un mercato talmente complessi che è necessario rivedere il nostro toolbox come dicono gli inglesi cioè la cassetta e gli attrezzi che abbiamo a disposizione perché pensare di riparare un jet con un cacciavite probabilmente è un atteggiamento romantico ma non lo so forse non ci porta da nessuna parte concludo io sono molto d'accordo con tutto quanto detto la tecnologia deve essere uno strumento che aiuta che rende diciamo che democratizza quindi rende possibile anche un certo tipo di meritocrazia cioè se sono bravo anche se sono piccolo posso farlo e mi viene in mente che una delle prime cose che ho fatto da praticante è stata una due diligence chiusa in una stanza per ore e ore a guardare dei contratti di cui tra l'altro non capivo nulla perché ero uscita dall'università dieci minuti prima e nessuno mi aveva mai fatto dare un contratto ecco forse quelli praticanti saranno contenti di non doverlo più fare ma dovranno imparare a usare lo strumento a capire qual è lo strumento e saranno in quel modo utili allo studio per implementare delle nuove tecnologie che potranno aiutare tutti e appunto mettere tutti sullo stesso piano tu siamo tutti pari che abbiamo 500 associate o ne abbiamo tre se quei tre sono molto bravi a utilizzare questi strumenti abbiamo le stesse capacità io sono d'accordo ed effettivamente non bisogna lasciarti andare però la pregrizia e qua l'esempio ce l'ha fornito un avvocato americano che è stato radiato perché? perché aveva chiesto a CiaGPT di scrivergli l'atto e CiaGPT gli ha scritto un atto citando dei precedenti che si è inventato di sana pianta l'avvocato non ha riguardato non ha controllato e là e confesso che la prima reazione è come gli è venuto di fidarsi anche solo per curiosità di vedere i precedenti che questo strumento aveva tirato fuori e quindi effettivamente ha presentato un atto in cui c'erano scritte delle cose totalmente scorrette quindi e in questo però io continuo e mi ripeto perché l'ho detto già un centinaio di volte è solo l'amplificazione di com'è la realtà oggi ci sarà sicuramente un avvocato che ha citato della giurisprudenza che non esiste ci sarà sicuramente appunto il lavoro è sempre lo stesso e io penso che già oggi chi si data di strumenti ed è in grado di usarli vale e ha capacità tanto quanto chi ha più forza lavoro che però non è in grado di gestire il lavoro in maniera efficiente quindi ecco l'opportunità che si presenta è di rendere tutto di amplificare sia il bene che il male proviamo a spostare il focus su quello che è bene e a sfruttare a nostro vantaggio questi sistemi grazie grazie allora con lievissimo anticipo sull'orario di chiusura ma questo è un altro delle dimostrazioni della efficienza e della capacità dei nostri relatori salutiamo tutti e diamo appuntamento per qualsiasi prossimo evento sull'intelligenza artificiale grazie a voi di nuovo grazie a voi 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 grazie a voi